Un nuovo reparto all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, esclusivamente destinato ai detenuti. La nuova struttura posta al quarto piano verrà inaugurata domani e consentirà ai degenti reclusi maggiore riservatezza insieme ad un elevato trattamento sanitario. Si tratta di una novità assoluta che nasce dalla collaborazione e sinergia tra la direzione della casa circondariale Petrusa, la direzione dell'ospedale, in collaborazione con la sezione Onuci. Domani per la cerimonia inaugurale sarà presente, per dare la sua benedizione al nuovo reparto, l'arcivescovo di Agrigento Francesco Montenegro. E sull'ospedale di Contrada Consolida arriva una denuncia di malessere dal vice segretario regionale della FIAS, Amedeo Fuliano. Il complesso, spiega Fuliano, ha una gravissima carenza di personale infermieristico. In atto precisa risultano essere in servizio soltanto 21 infermieri. Questo denuncia un notevole stress lavorativo nel personale, a cui viene negato sistematicamente il congedo ordinario. Mediamente ciascun infermiere deve fruire dai 60 ai 100 giorni di ferie arretrate necessarie al recupero psicofisico. L'intento del vice segretario regionale della FIAS è di sensibilizzare e di informare della situazione il direttore sanitario dell'ASP di Agrigento, affinché si impegni a risolvere immediatamente il problema, anche attraverso il tempestivo conferimento di incarichi a tempo determinato.